partivamo qua ad aprile andavamo su a subiale facevamo aprile e maggio a subiale e poi giugno agosto alla vade poi a settembre tornavamo a subiale a subiale poi si stava su il mezzo di settembre a subiale poi si tornava giù che si portavano giù le vie per fare il letame per cucinare le viti e salivamo su con le mucche e le capre si saliva su verso le quattro perché tutti i giorni dovevamo fare subiale in trozzo subiale in trozzo salire alla sera e scendere al mattino poi si veniva giù si veniva giù e bisognava poi andare nelle vigne a zappare perché c'erano i pezzetti da tenere puliti sotto le viti a maggio quando si cominciava a facciare il fieno bisognava venire giù e facciare il fieno poi dopo la sera andavamo su c'erano queste mucche da volire certo si mungeva si portava il latte alla latteria alla latteria poi si stava in cascina e non si parla più la cascina era proprio messa male quella di subiale no era un pochino la mia era una delle pochini un po' più belle c'era cammino un camminone grande un tavolo una peltreria cosa per mettere questi piatti letto quattro assa e il pagliaio di foglie di castano la mia infanzia è stata dura non c'era da mangiare bisognava lavorare a mangiare io arrivavo a sudiale apriva la casa panca non c'era mangiare c'era niente da mangiare c'era niente da lavare e portare fuori nei prati facevo otto viaggi al giorno non aveva su neanche le scarpe piedi nudi a mezzo giorno se voleva mangiare doveva arrangiarsi andavo in montagna sui monti con le bestie e il mese di aprile maggio stavamo qua a sudiale il monte che abbiamo qua sopra la casa ecco il mese di giugno li portavamo le mucche portavamo alla vadè facciavamo formaggio burro stavamo dentro noi venivamo a casa a lavorare la campagna alla mattina e alla sera andavamo su le bestie arrivavano da Pasqua quello che c'erano sui pastori e andavamo dentro a mungere e portavamo alla latteria tutto così c'era la latteria portavano il latte e poi ogni quinto stio me e i suoi amici andavamo a lavorare gli davano il burro il formaggio che aveva reso questo latte ecco mi ricordo quando facevano il latte e io andavo sulle latteria di la vadè e di subiale e mettevano giù il latte nelle conche quelle di lame grosse delle cose che galleggiavano non so mi ricordo poi facevano il burro con la penagia e io facevo girare per far uscire il burro poi c'era sui pentoloni con il fuoco e così quello lì che ha poi la mungitura delle mucche facciamo il formaggio ma buono anche formaggio ricotta il burro e ma due o tre famiglie fa il burro siamo stati fortunati dopo dopo la guerra qua perché è arrivato un casaro di Zalamona è stato qua vent'anni vent'anni fare il casaro qua e facevo il formaggio che buono non buono perché il formaggio d'introsso lo cercavano tutti si chiacchierava alla sera 4 o 5 o anche 6 quando abbiamo mangiato andavamo giù anche diceva su in Delbruck ah si davvero facevano una canzata me canzare che sentirei il prevedo stamattina si era si un'allegria facevamo così tra di noi mi piaceva la compagnia quando arrivavamo dalla latteria facevamo da mangiare assieme poi cantevamo tutto così proprio si è cantante quanto cantare per fin molte entro adesso entro quando ci trovavamo alla sera ti sentite di fisico ma c'è uno di qua che aveva una voce bestiale la stessa viale si andavamo a un posto facciavano i versi lì e qua in Trosta si sentivano gli davano risposta è un divertimento per farsi sentire per farsi sentire eravamo contenti ecco facevamo una cantata e poi un gioco che mi sentivano tutti si anche dentro l'ovodio in settimana erano stanchi che non si non so quasi ma alla sera bisognava fare la cantata prima di andare a letto si trovavano dieci dodici lì la quindicina lì un posto davanti a cantare io ho passato le mie strade in Baita da piccola mi ricordo che finita la scuola il veneretti si andava a catechismo fuori dalla chiesa di San Maretino finito il catechismo si saliva in macchina si andava in Baita andava in Baita facevi il fine settimana poi scendevi e poi ci passavi praticamente tutto agosto la Baita adesso non è più quella dove si andava con le bestie dove si stava comunque adesso hanno quasi tutte acqua coerente l'etaricità è una casa vacanze alla fine è una piccola casa vacanze in cui vai noi andavamo appena potevamo poi su avevi la compagnia ci si trovava la sera i ragazzi di Subiale i ragazzi di Lavadè al Cargariolo stavi lì mangiavi un gelato facevi quattro cacciavi quattro balle quattro chiacchiere in compagnia e quando eravamo in tanti con la pila si tornava a piedi cioè una mezz'ora retta non è tantissimo un padre si tornava in su in su a piedi aspettavi di andare in Baita perché avevi una compagnia era un po' una una vacanza poi quando sei piccolo anche solo venti minuti di strada comunque non sei a casa ti sembra di essere in un altro mondo completamente quando ero piccola io c'era la bocchetta a parte del capariolo c'era la bocchetta solo che vabbè adesso adesso è chiusa e andavi a mangiare il gelato andavi a giocare al laghetto piuttosto che sotto il laghetto c'è una specie di spiazzo si chiama la zocche e andavi a giocare a pallavolo andavi a giocare a calcio ci passavi ci passavi come a reggi comunque avevi la tua piccola compagnia eravamo non eravamo tantissimi cinque sei una decina massimo e passavi come a reggi adesso ci sono molti più bambini la cosa è positiva c'è molta più gente anche di Dario anche di paesi magari villeggianti che salgono d'estate quindi prendono tanto c'è un posto che viene valorizzato tanto adesso so 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 so